Ciao a tutte! Sarà la milionesima volta che dico ciao a tutte perché non filmo un video da l'inizio di dicembre praticamente tutti quelli che avete visto li avevo filmati in precedenza quindi eccoci con il primo video ufficiale del 2015 come state? Cosa avete fatto durante tutte queste feste? Come avete passato il Natale? Se l'avete passato in famiglia o con gli amici? E come avete visto ho un nuovo look, nuovo anno, nuovo look, io ogni tanto faccio esperimenti sui miei capelli Fatemi sapere cosa ne pensate Questo sarà il video che mi avete richiesto sui regali di Natale Io vi faccio vedere insomma tutte le cose che ho comprato anche io nel periodo Natalizio non solo quelle che mi sono state regalate perché comunque sono sempre autoregali quindi ci tenevo a farvele vedere Vabbè iniziamo dal regalo un pochino più grande diciamo Un attimo Un cappotto E proviene da Zwicky Cioè la maggior parte delle cose che vi farò vedere in questo video sono tutte Zwicky 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 Molto lungo Scende fino a metà coscia E' bello pesantino E ha tutti questi ricami Oltre al fatto che comunque tiene caldissimo Credo che se volete andare a dare un'occhiata a Zwicky c'è ancora Credo almeno delle mie parti C'è ancora e vi conviene andare a dare un'occhiata adesso perché comunque ci sono i saldi Quindi magari se lo volete acquistare Tutte le cose che vi farò vedere se le volete acquistare con i saldi è sempre meglio Un altro regalo che sicuramente avete visto appunto nello scorso Get Ready With Me E' questo vestitino di Terry Whale Che me l'ha regalato mia sorella in anticipo Di questo bellissimo bianco crema So che non è un vestito adattissimo alla stagione invernale perché è molto leggero E' molto sottile Però insomma per metterla a Capodanno c'è almeno il giorno di Capodanno Poi comunque si sa si è nei locali al chiuso Quindi comunque il giorno di Capodanno ci stava Di dietro appunto è scollato così, c'ha un buco sulla schiena Se lo volete vedere bene appunto andate nel video ve lo lascio qui oppure ve lo metto nell'info box Insomma così andate a vederlo bene proprio completo Altro regalo è stata questa magliettina Sempre in pizzo, non mi conoscono, no Appunto ha le maniche fatte in pizzo ed è abbastanza lunga Perché sottoscende tipo così Con questo stile, non so neanche come si chiama Tipo questo stile Tipo mo' di tenda Non è neanche leggerissima, sono le maniche leggere Perché dentro comunque è a doppio strato L'ultimo regalo per quanto riguarda il vestiario E' questa magliettina Sempre da Zwicky ovviamente Questa magliettina con il piede pull Perché dovete sapere che nell'ultimo periodo sono entrata in fissa con questa stampa Appunto con il piede pull Quindi ogni cosa Piede pull, piede pull E poi questo è stato un regalo creditissimo Perché ovviamente ho visto il piede pull e ho detto cosa? Sì, bellissima E qui sotto praticamente ha il pizzo E' molto molto carina E' smanicata quindi andrebbe messa con una magliettina nera di sotto, bianca Oppure con una giacchina sopra come l'ho abbinata io il giorno di Natale Adesso passiamo alla categoria make up Andiamo dal profumo Perché è uno dei profumi più buoni che ho ricevuto Ne ho ricevuti altri Però quello più buono in assoluto è stato questo Lady Million L'avevo già provato in precedenza Però Cioè Mamma mia Non me lo ricordavo così buono sinceramente E appunto penso che lo conosciate tutti Io non vi posso far sentire la fragranza Tramite fotocamera Però Sì Poi mi è stato regalato un rossettino della Claren Non so come si pronuncia Forse Claren Paris? Claren? Il numero 07 Red Wine Rosso vino Praticamente è quello che indosso in questo momento L'ho messo apposta per farvelo vedere Il packaging è bellissimo E appunto vi ho detto il numero 07 E il colore è questo Non è opaco E' lucidino appunto E' molto morbido Sulle labbra Però dura abbastanza Non La durata è abbastanza buona E ha un profumo di ciliegia Pazzesco e buonissimo Altro rossetto che desideravo tantissimo E' il mio primo rossetto Chanel E' bellissimo E' bellissimo E' questo qua praticamente Rouge et l'urre Velvet Questo è un matte Ed è il numero 43 E' bellissimo E' bellissimo Il trucco appunto il make up che ho ricevuto E' questa bombolina di Deborah Che è carinissima E' carinissima E' dentro anche i colori Sono molto molto belli Borgogna Bordeaux Corallo Marrone E' anche bella poi D'esposizione Da mettere lì Sulla Sulla specchiera Ma passiamo agli autoregali Passiamo agli autoregali Perché faccio così? Mi sono regalata questa bellissima felpa E' di quelle corte Così Infatti io la avvino Molto spesso con un jeans a vita alta E' ovviamente metto una carottiera Perché anche se la felpa è felpatissima Sì E niente sulle maniche c'ha queste 1, 2, 3, 4, 5 5 stelline 5 stelline che sono bellissime E non lo so Mi ricorda molto una di quelle felpe Da giocatori di football americani Non l'ho presa in nessun negozio di marca L'ho presa semplicemente dal cinese E lo stesso giorno ho preso anche questo crop top Rosso Perché a Natale è una cosa di rosso ovviamente La dovevo avere Ha sul collo questo dettaglio Con tutti questi brillantini e strass Con un buchetto dietro Carinissimo E niente Abbastanza corto Quindi anche questo lo abbinavo Con delle gonne a vita alta O dei pantaloncini a vita alta Ho andato via il sole Non male Cioè non meno male Nel senso io lo amo il sole Però Cioè non mi sento rompe Quando faccio i video Soprattutto Non so se ve le avevo già fatte vedere Queste scarpe Non lo so Vabbè comunque ve le faccio rivedere Perché le ho prese prima di Natale E sono queste scarpette Che si usano tantissimo adesso Sono tipo l'imitazione delle Dr. Martins Sono tipo retro style vintage E mi piacciono tantissimo Le ho prese in un negozio qui da me Sempre il solito negozio dove acquisto io le scarpe E appunto la marca è Engie Italia Ho visto che hanno anche un sito Se volete andare a dare un'occhiatina Vendono delle scarpe veramente carine Poi Che cosa mi sono autoregalata di make up Vicino un po' la videocamera Ho preso un pigmento di Zoeva Vabbè lo faccio vedere anche nella carta L'ho lasciato apposta Si chiama Cannella È un marroncino dorato Bellissimo E sugli occhi sta divinamente Con tantissimo mascara Infatti l'ho abbinato appunto in queste feste Con una riga di eyeliner E tantissimo mascara E sta veramente bene Solo questo fa una luce Soprattutto la sera Fa una luce pazzesca Poi volevo tantissimo provare La famosa terra Bahama Mama di The Balm La volevo provare da tantissimo Questa appunto è la terra fredda Che più mi piace Che ancora non avevo Proprio di questo colore Bellissimo Infatti ce l'ho anche su Su oggi E scolpisce il viso In una maniera pazzesca Infatti Il resto è lì Anche cioè Non si muove Fermo Immobile Cioè questo è stato l'acquisto Che più mi è piaciuto Per quanto riguarda il make up Ho preso in sconto Tipo l'avrò pagata 11 euro Ultima cosa Ultima 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 È la colla Duo Vi dico la verità È buonissima Perché ne ho provate tantissime Con le per ciglia finte Ma Non attaccavano niente Praticamente si staccavano le ciglia Invece con questa Tipo quando sono andata A toglierle Se ne è venuto anche l'occhio Quindi L'ho pagata sempre sul sito Machiaia L'ho pagata a 9 euro Se non sbaglio Quindi vi conviene Prenderla da là Se non Se appunto Se la volete Provare E comprare Perché Penso al momento Tra quelle che ho provato È la migliore Ok Torniamo ai posti di combattimento Ieri Ho fatto shopping Con i saldi Quindi Se volete un video haul Saldoso Vi invito a lasciare un commento qui sotto Bando alle ciance Io Mando un bacione a tutte E saluto in particolare Tutte le ragazze di Instagram Che mi chiedono appunto di essere salutate Però Non ricordo i nomi Quindi se Mi state guardando Lasciatemi qui sotto Così nel prossimo video Vi saluterò una ad una E niente Un bacio grande Ciao Ciao